L'ottavino è lo strumento il più acuto dell'orchestra, è lo strumento il più odiato dai vicini di casa e ai vicini di Leggio. Diventare una piccola parte da un grande organismo che ha una vita è proprio per me magia, quindi è la mia passione suonare in orchestra, assolutamente. Sia me sia il mio futuro marito, lui è stato, io sono ancora allieva del corso di perfezionamento d'orchestra, quindi ci sarà sempre un pezzettino dell'Accademia della Scala nel nostro cuore. È una questione di gusto personale perché tutti e due, sia Wagner sia Mahler, sono stati dei compositori bravissimi, ma personalmente io scelgo Mahler. Colgo l'occasione per invitarvi al nostro concerto del 23 febbraio alle ore 20 al Teatro Lirico di Milano. Colgo l'occasione per invitarvi al nostro concerto del 24 febbraio alle ore 20 al Teatro Lirico di Milano. Colgo l'occasione per invitarvi al nostro concerto del 24 febbraio alle ore 20 al Teatro Lirico di Milano. Colgo l'occasione per invitarvi al nostro concerto del 24 febbraio alle ore 20 al Teatro Lirico di Milano.